Sulle ande vicino alle sponde del lago Titicaca, un nativo Aymara potrebbe essere la persona più longeva di sempre, purché sia provata l'esattezza dei suoi documenti. Carmelo Flores Laura, che crede di essere nato nel 1890, ha una vita umile nella cittadina di Frachia. Vive in una capanna col tetto di paglia a circa 4.000 metri sopra il livello del mare. Il nativo Aymara riesce ancora a camminare nonostante la vista offuscata. Qual è il segreto di lunga vita di Flores Laura? Il contadino boliviano ha vissuto una vita tradizionale sulle Ande, con pesca locale, produzione di quinoa e fagioli e l'abitudine di masticare foglie di coca. Ero solito mangiare funghi, con foglie di quinoa e orzo macinato, perché non c'era né pasta né riso. Questi prodotti non esistevano. Circondato dai suoi numerosi pronipoti, suo figlio e sua nuora, Flores Laura dice di aver vissuto più a lungo di tutti nella città. avendo combattuto ed essendo sopravvissuto alla guerra del ciaco nel 1934 tra Bolivia e Paraguay e mantenendo la routine quotidiana di fare passeggiate nel borgo, il nativo Aymara dice che solo Dio sa quanto ancora gli rimane. Non so quanto a lungo vivrò. Non lo so, solo Dio lo sa. Egli deciderà quanto a lungo vivrò. Mi dirà se morirò o continuerò a vivere. Solo lui decide. Preoccupato per l'esistenza alquanto isolata sulle ande di Flores Laura, Cecilio Flores, il suo unico figlio in vita di 67 anni, si prende cura dell'anziano padre. Mio padre mi ha cresciuto e si è preso cura di me. Ora tocca a me prendermi cura di mio padre. Questa è la mia decisione. Dopo un breve periodo nella capitale La Paz, distante circa 80 chilometri dal suo borgo, la vita nella grande città non faceva per Flores Laura. Quando l'ho portato nella città di La Paz, mio padre mi ha detto che si sentiva come in prigione, chiuso a chiave. Mi ha detto non posso più patire questa restrizione. Quando esco di casa vedo solo muri e veicoli che emettono fumo. Mi ha detto che non poteva più patire di stare in città e voleva solo tornare alla sua terra. In Bolivia non fu emesso alcun certificato di nascita ufficiale fino al 1940, ma Flores Laura dice che il suo certificato di battesimo mostra che nacque il 16 luglio 1890, conferendogli un'età di 123 anni. I documenti di identità di Flores si basarono su quel certificato di battesimo, ma l'anagrafe si è rifiutata di verificare la sua età, dicendo che stanno indagando sulla validità dei documenti. Senza documento di nascita ufficiale dello Stato, il nativo Aymara potrebbe non trovare il suo nome dei Guinness dei primati. Secondo il Guinness, la persona più longeva verificata al mondo era la francese Jean Calment a 122 anni.